Meno incidenti sul lavoro ma più malattie professionali. È quanto emerge nella nostra provincia in base ai dati INAIL elaborati da Senaf in vista della giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro. Nella nostra provincia gli infortuni denunciati arrivano principalmente dai settori industria e servizi, quali registrano meno 7,1% con 4.809 episodi nel 2011 contro i 5.178 del 2010. L'agricoltura segna meno 7,3% con 480 episodi nel 2011 contro i 518 dell'anno precedente. Guardando alle malattie professionali a Piacenza si registra un aumento significativo nell'industria e servizi, 95 le denunce del 2011 contro le 75 del 2010 pari ad un aumento del 26,7% mentre nell'agricoltura si assiste ad un leggero calo con 15 denunce nel 2011 contro le 18 della 2010. Stanno diminuendo però teniamo conto della grande crisi che sta vivendo il nostro paese con la cassa integrazione che vede l'aumentare delle ore, pertanto necessariamente i dati sono tra virgolette positivi. La cosa però di Piacenza che fa particolarmente preoccupare sono le malattie professionali. Se voi guardate i dati vedete che sono in aumento e peraltro sono sottostimate. Nella regione Piacenza e provincia è la zona che ha meno malattie professionali. Non è credibile questa cosa, probabilmente gli stessi lavoratori non si rendono conto quando è il momento di fare richiesta. A Piacenza in occasione del primo maggio torna il tributo Anmil alle vittime del lavoro giunto alla sua dodicesima edizione. L'appuntamento è per le 20.30 in Piazza Cavalli con l'esibizione del cantautore piacentino Daniele Ronda.